Per decongestionare il lavoro del pronto soccorso di Chieti, già oggetto di lamentele da parte dell'utenza che è costretta a fare lunghe file fino a 8-10 ore, un distretto sanitario a Chieti Scalo efficiente potrebbe aiutare, fornendo assistenza primaria da quella specialistica a quella di base. L'accordo con il Comune per l'acquisto da parte dell'ASL dell'asilo Peter Pan ci sarebbe, un'operazione complessiva per 800.000 euro che dovrebbero essere oggetto di finanziamento del PNRR. Questo sarebbe un primo passo verso lo sviluppo di una sanità territoriale vicina ai cittadini anche e soprattutto alla luce delle difficoltà che la pandemia ha fatto emergere. Il carico degli ospedali infatti si è dimostrato eccessivo e quasi ingestibile. Il distretto sanitario manca ormai da due anni ed è un tema che ancora si deve sviluppare. Ci saranno delle evoluzioni nel senso che con il PNRR si riuscirà a tamponare in qualche modo, tant'è che c'è già un accordo per cedere l'ex asilo Peter Pan alla ASL nell'ambito delle case della salute. Però comunque chi si scalo ha bisogno di un distretto sanitario. Questo anche per fare in modo che la medicina territoriale sia organizzata e si evitino le file a pronto soccorso e si intasi l'ospedale in qualche modo. Per questo il Comune è a disposizione dell'ASL per i futuri passaggi dell'intesa che dovrebbe concludersi nel giro di un paio di mesi. Ci vogliono risorse e c'è bisogno di maggior dialogo tra l'ASL, il Comune e anche tutte quelle realtà associative e soprattutto le associazioni di malati che conoscono i problemi principali. In qualche modo però questo tavolo deve essere promosso dalla ASL perché la ASL è titolare di tutto ciò che riguarda la sanità. Noi siamo a disposizione come Comune di Chieti per portare le nostre istanze anche perché abbiamo il posto della situazione e del territorio.